rieccomi e direte ma perché è perché io il video messaggio l'avevo fatto già ma non sapevo ancora della menzione speciale sapevo solo della selezione un carissimo saluto amici dello small movie io sono nicola palmeri il regista di fisiologia e mi dispiace tantissimo non essere riuscito ad essere lì con voi allo small movie film festival e quindi vi salutavo e vi ringraziavo e mi scusavo per non essere lì con voi adesso che ho saputo della menzione speciale sono doppiamente contento io mi trovo adesso per ora in grecia per lavoro e in questi giorni si sta svolgendo il tessaloniki film festival sempre in grecia tra l'altro quest'estate abbiamo vinto il santorini film festival sempre con fisiologia e quindi insomma a prendere questa notizia qui in grecia è davvero molto bello insomma ci sta portando fortuna la grecia mi piace pensarla così e che dire sono veramente molto contento sicuramente verrò da voi per conoscervi di persona magari in un'altra occasione e con questo bellissimo veliero che sta passando alle mie spalle io vi saluto vi ringrazio anche a nome di tutti i nuovi solofi vi invito a vedere il sito che è www.fisolofia.it vi invito a vedere la nostra pagina e vi saluto calorosamente e lascio lo spazio a queste meravigliose immagini dal mar Egeo